Le migliori coppie di maestranze della provincia di Frosinona si sfidano nel realizzare a regola d'arte, con il minor tempo possibile, un manufatto murario. I maschi muratori si daranno battaglia a suon di calcio e struzzo, domenica mattina nel centro storico di Bovillernica, per il quinto concorso d'arte muraria, organizzato dall'ESEF, l'ente bilaterale per la formazione in edilizia, che lavora sul territorio da 26 anni, con l'obiettivo di dare un forte impulso all'istruzione professionale, alla formazione e all'addestramento di tutti coloro che hanno già iniziato, intendono iniziare, la propria attività lavorativa nel settore dell'edilizia. L'ESEF è l'unico, dico l'unico, ente accreditato per erogare formazione nel nostro settore. Lo dico questo perché ho visto in giro alcuni enti, tra virgolette, che erogano formazione sull'edilizia, ma questi sono tutti enti improvvisati e non regolari. Puntare dunque sulle virtuosità del territorio per risalire dalla depressione economica, aumentando le opportunità di apprendimento, e lo sa bene l'ESEF di Frosinone, che punta fortemente sullo studio e sulla formazione come antidoto alla crisi economica. Specialmente in questo periodo di crisi, e la formazione potrebbe dare una mano, noi ce la stiamo mettendo tutta. Stiamo portando avanti un accordo con la Regione Lazio, con l'assessore Smiriglio, per la formazione obbligatoria triennale. Sono sempre più numerosi i giovani che si avvicinano all'ente bilaterale per la formazione in edilizia, consapevoli che integrare il sistema dell'istruzione con quello del lavoro porti alla creazione di un ciclo virtuoso, che si conclude con la formazione di lavoratori sempre più esperti e qualificati. Da qualche tempo si sono avvicinati diversi giovani presso l'ESEF e chiedono se ci sono corsi per quanto riguarda carpintieri, muratori, ferreoli e quant'altro. Cosa che tanto tempo fa queste cose non avvenivano, dovevamo fare i corsi a lavoratori comunitari, quindi questo è importante. Mettere in piedi un percorso formativo triennale significa per le nostre aziende avere delle risorse qualificate.